Meno compravendite, prezzi stabili, soprattutto nella zona dei laghi. È il polso degli immobili in provincia di Varese, secondo gli esperti di FIAP, che quest'anno lanciano il loro nuovo osservatorio, FIAP Monitor, a preziosa cartina tornasole delle tendenze e delle dinamiche immobiliari. Ha come obiettivo quello di monitorare l'andamento del mercato, dando dei focus, piuttosto che i prezzi delle singole città, raccogliendo i dati forniti dagli associati, ma anche dai dati quali istituzionali, perciò dall'Agenzia delle Entrate. In prospettiva il trend appare ben definito. La tendenza per il 2024 è sicuramente quella di un mantenimento dell'andamento del 2023, però ci si aspetta qualche aspetto positivo dai probabili e già annunciati abbassamenti dei tassi di interesse annunciati dall'ABC. Dopodiché, limitando l'analisi a Varese Città... Le carenze del mercato varesino riguardano più che altro l'assenza di immobili di nuova costruzione. È diventato un mercato di scambio di immobili datati, in quanto il grosso del patrimonio immobiliare varesino è costituito appunto dal boom edilizia degli anni 70-80. Insomma, immobili mediamente vecchiotti, con tutto ciò che ne consegue in termini energetici, ma anche una tendenza varesina all'investimento per mettere a reddito le case, specie in zone periferiche come Bobbiate, Casbeno, Giubiano, San Carlo e Vialeborri.